Benvenuti al Ponte Nuovo, più noto come il Ponte della Bionda, così chiamato dai bolognesi perché pare che una venente signora intrattenesse piacivolmente i barcaioli che transitano lungo e navile. Questo ponticello a schiena d'asino, la cui costruzione si può datare dopo la metà del 1600, serviva per attraversare il canale che qui si biforca in due rami, il canalazzo e il fossetta, che serviva quest'ultima al traino delle barche per mezzo di cavalli o buoi. Lunghi corso della fossetta sono collegati sostegni o chiuse che permettevano il superamento di slivello del canale. Questo ponte che era in parte crollato è stato rivestilato grazie all'indirizzamento di Fausto Carpani. E adesso andiamo a trovare il nostro amico romano che ci racconderà le storie del navile. Il canale navile era navigabile ed è stato navigabile per tutto il medioevo e addirittura utilizzato fino alla fine del 1800, all'inizio del 900. Il canale navigabile era molto, molto, molto frequentato e consentiva ai bolognesi di comunicare, soprattutto dal punto di vista commerciale, con il mare perché il canale sfociava in Reno, il piume Reno perché poi scendeva il canale. Detto che era navigabile, va detto che al tempo naturalmente non c'erano motori, non c'erano fuori bordo, non c'era niente. Questi erano barconi che venivano trascinati all'inizio. Quando questi barconi arrivavano, va detto anche un'altra cosa importante, il canale era navigabile per circa sette mesi all'anno perché poi risentiva naturalmente l'atmosfera. Ecco, il canale era utilizzato da questi barconi che erano trascinati da animali. Questi sostegni, così come si chiamano, sono tre o quattro che ci sono, questo è l'ultimo verso Corticello, servivano per il passaggio delle barche laddove c'era una scarsità di acqua. Erano delle chiuse che consentivano l'innalzamento dell'acqua e quindi il passaggio. E venivano azionati da questi strumenti, da queste porte, queste erano porte che venivano aperte e chiuse da dei dipendenti, degli addetti che appunto residevano in queste case, in queste case che ci sono e che ci sono dei monumenti nazionali. Quindi le barche, le barche iniziavano il tratto da, a partire da questo punto, andavano fino a... Andavano. Dunque, bisogna dire che il primo porto, Bologna aveva avuto più porti. Il primo porto risulta essere quello di Corticello, l'abbiamo alle spalle. Sì. Dove c'è il ponte a Corticello, sotto lì c'era il primo porto di Bologna, in pratica le barche che arrivavano dal mare, da Venezia, o comunque insomma dal fiume Reno, che venivano a Bologna, trovavano un primo porto a Corticello, anzi a quel tempo era l'unico porto. Dopodiché le merci venivano trasportate nei carri via terra e davano fino alla città. Quando questo canale invece entrò in funzione... Si parla nell'epoca, ad esempio... Dunque, guardi, il canale ebbe il suo ultimo porto, il più moderno, l'ha avuto alla fine del 1400, fatto dall'allora signora di Bologna, Giovanni II Bentivoglio, che fece costruire il porto laddove c'è ancora oggi, ed è all'incrocio fra il Viale di Circomorazione e la Via Domizoni. Quindi da qui si poteva arrivare fino a Venezia? Da qui si arrivava fino a Venezia. E le merci? Che merci si portava? Perché qui, ovvio, non abbiamo pesce da trasportare. Certo, certo. Bologna viveva... L'economia bolognese del tempo, nel Medioevo, era basata sulla lavorazione del bacco da seta, in primo luogo. Aveva moltissimi mulini che erano alimentati dai canali di reno, le famose macine che consentivano la lavorazione. Allora non c'erano, non c'erano, non c'erano motore, non c'erano reno. Non esisteva, l'energia ventreca era assente. In pratica l'economia bolognese era basata sull'acqua. Poi la canapa... La canapa e il bacco da seta sono stati, per molti, molti secoli, la vita per la città di Bologna. La vita per la città di Bologna. la canapa... La vita per la città di Bologna. App gehört. Grazie.